Juve col tridente anche contro Nantes rientrano Quadrado e Bonucci. La prova tridente contro la Fiorentina non è stata perfetta, ma va comunque tenuta in considerazione per il debutto stagionale in Europa League contro il Nantes. Dopo la retrocessione dalla Champions, per la Juve parte la missione riscatto, Allegri potrebbe confermare Chiesa e Di Maria alle spalle di Vlaovic. Proprio come nell'ultima gara di campionato. Ma devono tutti dare maggiore disponibilità di copertura senza pala e migliorare le combinazioni in fase di possesso. In alternativa, si va con un centrocampista in più e una staffetta tra gli attaccanti a disposizione, anche che anscalda i motori per un segmento di partita. Quadrado, out con la Fiorentina per un attacco influenzale, e Bonucci, reduce da un lungo periodo di stop per un problema muscolare. Torneranno a disposizione, per il colombiano è ipotizzabile anche una maglia da titolare. Al posto di Desciglio, il capitano bianconero andrà in panchina, al massimo potrà fare qualche minuto sul finale se necessario ma il suo ritorno tra i convocati è comunque importante. In termini di esperienza, probabile la conferma della difesa brasiliana a protezione di Svkzesni. Mentre Locatelli e Rabiot sembrano al momento intoccabili. Molti altri sperano di trovare spazio nelle rotazioni a gara in corsa. Pur non essendo ancora esclusi totalmente dalle scelte iniziali. C'è ancora qualche giorno per sciogliere i dubbi. Ma la direzione sembra delineata, Allegri potrebbe cambiare poco rispetto alla gara con la Fiorentina.